Let's get to know our students a little better. Who are they? And how has their musical journey been so far? Ho iniziato quando avevo tre anni con lo studio della tastiera e andando avanti è stato più naturale avvicinarmi al pianoporte, adesso non ne posso più fare a meno. Quando faccio musica mi sento al sicuro, mi sento come se fossi a casa mia, quindi è la mia vita la musica, non c'è molto da dire. La verità è che senza la musica me sentiria abbastanza vacio perché è una attività che mi llena e mi appassiona molto. Io credo che ora non posso immaginare la vita senza musica perché è una cosa che mi aiuta molto a expresare come mi sento, senza necessità di usare parole. Noi amiamo bene a giocare diverse, come il rock e il jazz è un po' meno nella zona tenue. Se mi ammettere i corsi, mi sento che mi hanno inventato un po' il concerto. Le lezioni presso questa scuola Yamaha mi hanno aperto tantissime porte, come la possibilità di partecipare a molti concerti, i Junior Original Concerts in tutta Italia, e mi ha permesso di conoscere molti altri ragazzi compositori e dalle varie altre scuole Yamaha. Il miglior souvenir è appicciare, ricolle sempre in sé, portare insieme ai miei compagni e studiare in un gruppo per un tempo. Le vantaggi e le opportunità che ho adquire in Yamaha Music School sono di collegare con il resto dei musici e di adottare una disciplina con il mio proprio studente. Credo che lo che mi piace di fare musica in una banda è poter compartire con gente che ha la misima passione che tu, qualcosa che ti piace. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.